Musica Prima edizione del nostro telegiornale, buongiorno e bentrovati. In apertura il terribile incidente costato la vita ieri a Butera, in provincia di Caltanissetta, a tre persone, a scontrarsi frontalmente un'auto e un'ambulanza. All'origine potrebbe esserci una manovra azzardata. Il servizio è di Guenda Garozzo. Sono immagini agghiaccianti, quelle catturate ieri sulla strada statale 626, quelle che raccontano dello scontro fra una macchina ed un'autoambulanza. Queste le vedete, gravissimo incidente, quello avvenuto ieri pomeriggio a Butera, il bilancio delle vittime pesante morti, il conducente del mezzo di soccorso, il paziente che veniva trasportato e l'automobilista. Rimasti feriti il medico e l'infermiere che erano a bordo del veicolo dell'ASP Nissena. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 all'altezza dello svincolo per la città del libero consorzio di Caltanissetta, sulla strada statale 626 per Gela. L'ambulanza in servizio all'ospedale Vittorio Emanuele, nella cittadina che si affaccia sull'omonimo Golfo, stava rientrando al Sant'Elia dove aveva trasportato un paziente che era stato sottoposto ad una procedura in emodinamica. A ricostruire l'accaduto la polizia stradale, grazie anche ad alcuni testimoni, secondo cui la Nissan Juke avrebbe invaso la corsia opposta, impattando così violentemente contro il veicolo sanitario che si è ribaltato. Morti sul colpo Luigi Guarnaccia, 46 anni, di Catania, e Francesco Cannia, 76, nisce mese. Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta sono state inviate due ambulanze e l'elisoccorso che ha trasportato l'infermiere Giuseppe Ragusa al Sant'Elia per un grave trauma cranio-facciale. Le sue condizioni rimangono gravi. Una delle ambulanze si è occupata del trasporto al Vittorio Emanuele Di Gela del medico che accompagnava il paziente, Flavio Rimaudo, che ha subito un trauma toracico. Molto più complesse si sono rivelate per i vigili del fuoco le operazioni per estrarre l'autista dell'ambulanza rimasto incastrato tra le lamiere. Le condizioni di Tiziano Iudica sono apparse sin da subito gravissime. Intubato sul posto è stato poi condotto al Sant'Elia, ma il suo cuore ha smesso di battere durante la corsa disperata nel tentativo di salvargli la vita. Un 55enne è stato arrestato a Catania dai carabinieri per aver malmenato la convivente di 42 anni che si trova adesso ricoverata in ospedale. È accaduto ieri nel quartiere di Picanello dove i militari sono intervenuti in seguito ad una richiesta di intervento giunto all'112, numero unico di emergenza, da parte di alcuni vicini che avevano sentito le urla di una donna. La vittima ha raccontato ai militari che già altre volte sarebbe stata aggredita dall'uomo. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto i domiciliari in un'altra abitazione con il braccialetto elettronico. Truffa all'Inps. Sette siciliani che residevano all'estero percepivano, avendo dichiarato il falso, la pensione sociale. C'è anche chi aveva simulato una separazione coniugale, operazione della Guardia di Finanza di Messina. Da anni fingevano di risiedere in Italia e per questo hanno beneficiato dell'assegno sociale sette siciliani emigrati indagati per avere indebitamente percepito il sostegno erogato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Le indagini eseguite dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina e coordinate dalla locale Procura della Repubblica si inquadrano nell'ambito di un'attività volta alla ricerca, alla prevenzione, alla repressione delle violazioni in materia di uscite economiche dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e dell'Unione Europea, intercettando l'indebita percezione di prestazioni previdenziali come quella riscontrata in questa operazione che ha portato all'emissione di provvedimenti cautelari reali da parte del giudice per le indagini preliminari. Sequestrati oltre 200 mila euro a tanto ammonterebbe l'importo elargito dall'Inps dal 2016 al 2021 che garantisce a chi versa in condizioni disagiate ben 13 mensilità annuali. La concessione dell'assegno sociale che negli anni ha preso il posto di quella che un tempo era la pensione sociale e vincolata non solo al rispetto di determinati requisiti reddituali ma anche e soprattutto a parametri anagrafici. La condizione è quella di essere cittadini italiani di età superiore ai 66 anni e 7 mesi con stabile e continuativa dimora nel territorio italiano per almeno 10 anni. Non basta dunque avere la residenza poiché il soggiorno prolungato all'estero diventa causa di perdita del sussidio. Nello specifico ad operare le fiamme gialle di Taormina che hanno verificato in attesa di contraddittorio tra le parti che questi soggetti solo formalmente risultavano essere rientrati in Italia da paesi sudamericani ed europei come la Spagna. La loro residenza formale nella fascia ionica della provincia peloritana Sant'Alessio, Siculo e Roccalumera che non coincideva con la dimora abituale che rimaneva all'estero e per questo l'assegno sociale al loro favore è stato ritenuto in debito. Non è servito dichiarare il falso rimanere iscritti nelle liste dei medici locali di base tantomeno l'aver assimilato separazioni coniugali. Armi e droga in una cava dismessa tra Noto e Rosolini nel Siracusano a scoprirle. Sono state i carabinieri in una grotta ben nascosta dalla vegetazione all'interno custoditi in zaini e buste hanno trovato un fucile tre pistole di cui due rubate un centinaio di munizioni di vario calibro due bilancini di precisione circa 700 grammi di cocaina già divisa in sei panetti 600 grammi di cocaina in 18 ovuli e circa un chilo di hashish in nove panetti. Le armi su disposizione della procura di Siracusa verranno inviate al RIS di Messina per gli accertamenti di laboratorio finalizzati a comprendere se siano state utilizzate per il compimento di attività delittuose sul territorio nazionale. Veniamo adesso all'avvertenza degli autotrasportatori siciliani dismessi i blocchi stradali si è aperto a Catania il tavolo permanente con istituzioni grande distribuzione e produttori su caro gasolio e rapporto con le imprese in prefettura invece vertice con le organizzazioni di categoria degli agricoltori. Mario Grasso. Un tavolo permanente per tradurre la protesta in istanze da presentare probabilmente già lunedì prossimo al governo nazionale gli autotrasportatori della regione siciliana assieme alle agenzie e alle categorie produttive hanno avviato il confronto dopo la dismissione dei punti di sensibilizzazione che erano stati attivati dagli autotrasportatori ormai con le tasche vuote a causa del caro gasolio e del mancato ricarico dello stesso costo sulla committenza. Proprio il confronto con la committenza da un lato e le categorie governative dall'altro lato sono i rami dell'unico tronco d'albero che adesso si vuole fare sviluppare attraverso regole certe ma anche significative rimodulazioni nei rapporti tra le parti non o sempre i riliaci. Questa mattina al palazzo della regione di Catania dunque l'apertura di questo tavolo permanente dove si è parlato di credito d'imposte dell'aumento per circa 400 euro sullo costo di carico delle indicazioni da scrivere per gli interventi governativi. Per stabilire non soltanto le rivendicazioni che sono sempre il credito d'imposta sul carburante un indennizzo sulle autostrade del mare due ore in più nella guida a causa dell'attraversamento sullo stretto più alcune regole di ingaggio nuove che devono essere che devono riguardare non soltanto l'autotrasporto ma anche la committenza e il mondo produttivo rappresentano la piattaforma che rassegneremo a Roma mercoledì prossimo e abbiamo messo in campo alcune iniziative siamo fiduciosi dal governo nazionale arrivano i primi segnali di speranza vediamo di concretizzarli in provvedimenti amministrativi concreti. Al tavolo siederanno anche i produttori le cui confederazioni si sono incontrate questa mattina con il prefetto di Catania a cui hanno lamentato vistose perdite a causa della protesta degli autotrasportatori le sigle che io rappresento nel senso che siamo presenti qui sia confagricoltura piuttosto che confcooperativa e frutta impresa abbiamo rappresentato al prefetto il fatto che ripeto avevamo chiesto subito un incontro per cercare di fare una mediazione con questi signori invece ci siamo trovati hanno utilizzato un metodo sbagliato e ci hanno messo in grosse difficoltà perché non aver annunciato questa protesta aziende che fanno produzione di ortaggio piuttosto che di frutta che è merce deperibile questo comporta chiaramente una perdita notevole di prodotto e quindi di reddito per le aziende commerciali e anche quelle agricole questo prefetto di intervenire tramite lei e quindi tramite lei presso il governo sia regionale che nazionale di sederci al torno a tavolo e trattare con quantomeno discutere con questi signori quelle che sono le possibilità che ci sono per andare verso un accordo chiaro il messaggio lanciato dal prefetto catanese oggi chiaramente la situazione parte da una smobilitazione dei presidi dei tir nei vari caselli e nei punti diciamo nevralgici quindi diciamo chiaramente c'è stata questa intesa ma soprattutto quella importante è questa disponibilità da parte della regione alla istituzione di un tavolo permanente di confronto nel quale evidentemente tutte le problematiche potranno trovare una sede naturale per un confronto e per superare quelle che sono le difficoltà da una parte e dall'altra diciamo nell'ambito di questa vertenza la geotrans di catania colosso siciliano dei trasporti su gomma appartenuta al clan santa paola ercolano sequestrata nel 2014 e confiscata definitivamente nel 2019 è passata in gestione alla geotrans cop la cooperativa costituita dagli ex dipendenti della società lo rende noto la lega cop sicilia parlando di una storia letto fine come non sempre è accaduto in passato nel mondo delle aziende confiscate alla mafia la formalizzazione della concessione gratuita dei beni aziendali e il passaggio di commesse e contratti sotto la bandiera della geotrans cop è avvenuta ieri dal notaio alla presenza dei rappresentanti di lega cop sicilia che fin dall'inizio ha sostenuto sottolinea l'associazione il percorso di rinascita dell'azienda e ha partecipato alla costituzione della nuova cooperativa che la gestirà nei prossimi anni cambiamo argomento parliamo adesso di sanità in sicilia si va verso la fine dell'emergenza da covid-19 ma la regione intanto studia nuove misure di contrasto alla pandemia è vero la curva dei contagi ormai in discesa gli ospedali tornano a respirare per il minore numero di ricoverati la stragrande maggioranza del paese è ormai bella e vaccinata e l'arrivo del vaccino nonovax dovrebbe convincere molti altri alla inoculazione inoltre molti italiani hanno preso il covid e oggi sono considerati immuni per cui anche per salvaguardare le casse dello Stato il 31 marzo il governo italiano non rinnoverà più lo stato di emergenza provvedimento emergenziale appunto che ha inciso da due anni a questa parte sull'economia globale spicciola e che ha modificato usi e costumi degli italiani e ovviamente anche dei siciliani ma qual è la situazione sanitaria nell'isola nel senso che dall'1 aprile in poi atteso che la pandemia non è certo finita la nostra regione saprà adottare le misure necessarie previste dai nuovi protocolli sanitari lo abbiamo chiesto all'assessore regionale alla salute Ruggero Razza beh intanto penso sia una buona notizia per tutti i cittadini italiani anche perché il Presidente Draghi ha raccolto un appello che unanimemente gli veniva dalle forze politiche del Parlamento tanto quelle di maggioranza quanto quelle di opposizione il che non vuol dire voglio dirlo con una certa chiarezza che è finita l'emergenza è finito lo stato di emergenza e c'è la necessità di portare la endemizzazione del Covid all'interno di un contesto di ordinarietà non è un'abbassata la guardia dunque ma semmai una presa in carico della nuova situazione si continueranno con le vaccinazioni continueranno a esserci certamente dei pazienti positivi perché la fine dello stato di emergenza il 31 marzo non vuol dire che dal primo aprile non ci sarà più un malato continueremo a lavorare con un sistema di ordinarietà e intanto ci riprendiamo il piacere della vita che ci è stato reso possibile anche grazie alla presenza del vaccino sarà anche necessario modificare il punto di contatto verso la malattia e in tal senso più che le strutture ospedaliere dovranno essere i territori dunque la sanità territoriale ad affrontare il tema immagino che nei prossimi 30 giorni dal ministero arriveranno alcune indicazioni la richiesta che le regioni faranno ovviamente è di rafforzare la presenza delle unità sanitarie sul territorio ecco gestire la ordinarietà del Covid al di fuori di un contesto di emergenza Alfieri dell'ambiente si chiama così la nuova campagna di sensibilizzazione lanciata dalla Dasti punta appunto a sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche ambientali e si rivolge agli studenti dell'area metropolitana di Catania Francesco Larosa è denominato Alfieri dell'ambiente il progetto di educazione ambientale rivolto ai ragazzi alla comunicazione multimediale con tre elementi chiave si tratta di un percorso creativo rivolto agli alunni delle scuole alle famiglie e in generale a tutti coloro che vivono nei 14 comuni della provincia di Catania dove Dasti è titolare del servizio di igiene ambientale l'obiettivo è quello di formare le giovani generazioni sulle tematiche ambientali stimolando il senso di appartenenza al territorio e determinando un ruolo attivo all'interno della comunità nell'ambito di una nuova coscienza ambientale questo progetto è stato è previsto proprio si chiama Alfieri dell'ambiente ed è previsto proprio per i giovani noi crediamo molto nei giovani e puntiamo sempre sulle nuove generazioni perché sono loro che dovranno prendere le sorti del pianeta in mano e quindi crediamo proprio nella nella loro dobbiamo stimolare il loro interesse per l'ambiente per l'etica per tutto ciò che è virtuoso cioè io ritengo che questo pianeta si possa salvare solo se si recuperano i valori questi valori persi che sono che invece sono importantissimi dell'etica il rispetto di sé e del prossimo e delle sorti di questo pianeta che lo stiamo consegnando in condizioni veramente pietose quindi ritengo che i giovani devono mettersi in capo una nuova rivoluzione culturale e il motto deve essere proprio sì al decoro no al degrado lo sapete voi quanti rifiuti si producono per fare 200 grammi di telefonino ecco 86 chili di rifiuti non so se vi rendete conto e ci rendiamo conto di cosa significa cosa c'è dietro alla produzione è un progetto che riguarderà la promozione la formazione e la diffusione di tutte le attività che riguardano la differenziata però con un particolare il particolare è rendere protagonisti giovani i ragazzi perché ritengo che i ragazzi all'interno delle famiglie riescono a far veicolare un messaggio importante che è quello di differenziare 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 fra le attività una cosa molto interessante alla fine del progetto le classi che si aggiudicheranno perché ci sarà un concorso è prevista la possibilità di conoscere gli impianti di trattamento perché spesso si parla di raccolta differenziata ma sentiamo sempre questo interrogativo vengono raccolti in modo differenziato ma poi non si conosce il vero ciclo quindi il progetto mira anche a far conoscere l'intero ciclo dei rifiuti quindi i ragazzi oltre a essere protagonisti di tutte le attività che riguardano differenziata di decoro urbano avranno finalmente la possibilità di conoscere i vari impianti proseguono e saranno ultimati entro l'estate a riposto i lavori di ampliamento e valorizzazione del parco comunale delle Kenzie che si avvalgono di uno stanziamento della regione di un milione e mezzo di euro stamani sopra luogo del sindaco Enzo Caragliano e del direttore dei lavori Francesco Rapisani Tarda ad eseguire l'intervento un'impresa di Favara che si è giudicata all'appalto nell'aprile dello scorso anno il progetto prevede nel dettaglio la realizzazione di un auditorium e l'ampiamento dell'edificio esistente che ospita serre e museo botanico prevista anche la costruzione di una passerella aerea che collegherà il fabbricato esistente con il nuovo che ospiterà al piano terra una sala conferenze con 140 posti a sedere attrezzata di cabina di proiezione e controlli impianti audio e video oltre ai servizi igienici al primo piano del nuovo complesso espositivo corredato da ampio terrazzo accessibile dall'esterno invece sarà realizzata una sala per l'esposizione micologica il progetto che prevede un ampliamento complessivo di 300 metri quadrati di aria coperta contempla anche la sistemazione esterna nonché un'area a parcheggio a supporto del parco e infine altri spazi a verde attrezzati per l'espansione dell'esistente giardino botanico riqualificare il parco della gazzena di acireale c'è un progetto per acquisire l'area a verde che è al centro di un programma di interventi che includono anche la frazione di capomulini e le chiazzette della timpa sentiamo Salvo Cuturi l'area a gazzena di acireale è uno dei polmoni verdi più estesi e meglio conservati del territorio di proprietà privata ma vincolato paesagisticamente al centro di un ambizioso progetto di acquisizione e riqualificazione da parte del comune di acireale tramite un programma di interventi promossi dall'area metropolitana di catania con fondi del PNRR piano di ripresa e resilienza il progetto di interventi interprovinciali comprende 37 comuni consoziati ognuno con le proprie peculiarità il piano di lavoro del parco della gazzena richiede un finanziamento di 5 milioni e 600 mila euro un fondo permette in rete questa porzione di macchia mediterranea un tempo ortus regio orto botanico di piante officinali un erbario voluto dal farmacista acese Giuseppe Riggio intorno all'800 si attinge dunque anche alla storia per emettere a fruizione questo sito da integrare in un percorso ideale con la vicina frazione a mare di Capobolini il sentiero delle chiazzette della Timpa area di interesse ambientale paesaggistico e nella parte nord una ciclo pedonale con lo stadio Duparello in un contesto naturale unico che si completerà con il collegamento della ciclabile alla vecchia stazione ferroviaria la giunta di Aciriale nella riunione tenuta ieri ha approvato il dettagliato programma di rilancio di quest'area per anni rimasta come congelata nel tempo salvaguardando le specie albore e alcuni manufatti storici che potrebbero ospitare musei e centri di aggregazione in combinazione con la Timpa riserva orientata e tutelata da rigide norme a salvaguardia dei luoghi nel contesto territoriale che ingloba anche l'area marina protetta dell'isola dei ciclopi di ecitrezzi e altri siti di interesse storico ed archeologico il piano di interventi riunisce in un'unica visione i paesaggi e trinei e della zona sommitale a mare Aciriale è una città che non ha un parco urbano e quindi abbiamo pensato di realizzare questo parco che è il parco della Gazzena che diventa un polmone verde per tutto il comprensorio non solo per Aciriale e quindi il progetto questo progetto che complessivamente è di 5 milioni e 600 mila euro prevede un intervento quindi l'acquisizione al patrimonio comunale dell'area della Gazzena e la sua riqualificazione la realizzazione di un parco degli odori dei sapori che è l'Ortus Regius che era un vecchio un intervento che è stato fatto dal farmacista Riggio su cui c'è una bellissima pubblicazione delle piante officinali che venivano realizzate e poi una serie di percorsi ciclopedonali che uniscono partono da Capomulini raggiungono il parcheggio di Capomulini la Gazzena e Santa Caterina la riqualificazione della Gazzena prevede inoltre il collegamento con AC Greenway 3 km di pista ciclabile lungo l'extra linea ferrata ultimata in attesa dei pareri tecnici per la consegna della città e la piena fruizione del tracciato che attraversa in un contesto paesaggistico di indubbia bellezza parte della costa rocciosa della Timpa il gruppo ha richiesto al direttore dei lavori di effettuare una serie di verifiche sulla consistenza del manto che è stato realizzato e so che già sono stati eseguiti e quindi si aspettano le risposte dalla società che è stata incaricata di effettuare questi carotaggi i carabinieri di Paterno hanno denunciato tre uomini di 19, 29 e 38 anni per ricettazione in concorso il più grande è stato anche arrestato per violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno del comune di Paterno fermati a bordo di una Fiat Punto ad un posto di blocco lungo la strada provinciale 15 hanno tentato alla vista dei militari di scappare sono stati fermati dopo un breve inseguimento a bordo dell'auto sulla quale si trovavano trovati oltre 150 kg di arance di provenienza furtiva inaugurato a Catania nella zona di San Giovanni Galermo il primo centro di allenamento di OCR un percorso di resistenza fisico-atletica su una vasta area all'aperto scopriamo di cosa si tratta un percorso ad ostacoli studiato su una vasta area all'aperto dove si misura la resistenza fisico-atletica nella zona di San Giovanni Galermo a nord di Catania ha aperto i battenti il primo centro di allenamento OCR curato dall'associazione sportiva no profit Etna Blue Boys gli appassionati si cimentano su una corsa ad ostacoli di tipo militare dovendo superare diversi tipi di ostacoli sia naturali che artificiali come muri e fili spinati attività fisicamente molto intense ormai diffuse in oltre 30 paesi dopo essere nate negli Stati Uniti l'associazione sportiva Etna Blue Boys è affiliata all'ente di promozione sportiva del CONI Endas e annovera già una ventina di iscritti con quattro istruttori pronti ad offrire il loro contributo tutti i giorni della settimana lo sport l'OCR è uno sport che è nato da pochi anni da circa sette anni negli Stati Uniti e quindi si è diffuso quasi in tutto il mondo è uno sport che coinvolge tantissime persone le Spartan Race ne danno dimostrazioni che le Spartan Race partecipano all'incirca 10-15 mila persone nella normalità è uno sport estremo è uno sport estremo uno sport che coinvolge tutte le fasce muscolari e mette a dura prova le capacità fisiche delle persone un percorso studiato e lungo all'interno di questa struttura assolutamente sì abbiamo studiato un percorso che coinvolge delle varie tipologie quindi salite discese sterrato roccia salti con le corde scavolcamenti di muri e tante altre tipologie di attività al momento siete quattro istruttori quanta è la gente che si sta accostando a questa nuova attività a Catania tantissima perché la gente vuole misurarsi con se stessa cosa bisogna fare per accostarsi a questa disciplina bisogna avere soltanto una buona forza di volontà tanto spirito di iniziativa propria perché le capacità devono essere diciamo pronte ecco ad affrontare uno sport del genere che secondo me si può subito cominciare iniziando poi lì si percorre un percorso diciamo interiore si comincia a vedere a studiarselo da sé anche se è uno sport forte ma tutti possono avere la capacità di farlo come ci si può affiliare a questo centro allora le iscrizioni sono praticamente basta andare nella pagina di Etna Blue Boys che è una pagina pubblica e lì diciamo ci contattate quindi possiamo benissimo diciamo prendere le iscrizioni da subito allora in attesa di iniziare quest'allenamento noi andiamo avanti con il telegiornale parliamo del carnevale di Acideale che per il secondo anno è in versione ridotta a causa della pandemia ma in questa edizione si apre alle scuole la sera invece in Piazza Duomo proiezioni delle passate edizioni sulle facciate degli edifici storici il carnevale di Ecireale nell'edizione canonica al tempo del coronavirus e con le restrizioni ancora in corso ha saputo riorganizzarsi con iniziative collaterali che stanno riscontrando il favore del pubblico residenti in prevalenza qualche visitatore proveniente dai comuni vicini più rari i turisti in città si spera nell'edizione programmata dal 21 aprile all'8 maggio con il ritorno della parata dei carri allegorici groteschi di quelli infiorati nel circuito barocco per la più importante manifestazione cittadina la terza in Italia per importanza e presenza di pubblico con i limiti imposti dalle autorità gli organizzatori hanno impostato un itinerario ideale il palazzo del turismo con la mostra dei carri miniature e le maschere isolate collocate nel cortile interno la sera e piazza duomo il maggiore attrattore con la proiezione su tre facciate di edifici storici di immagini a tema dei carnevali del passato dal 1930 ai giorni nostri una felice intuizione che ha richiamato gli accesi nel salotto buono una marcorda sul carnevale che per la cereale rappresenta un'eccellenza emotivo di orgoglio il carnevale gioia per i più piccoli alunni delle scuole i veri protagonisti dell'invasione gioiosa di piazza duomo mascherati con abiti dei personaggi del mondo delle favore tappa obbligatoria priva di una visita al palazzo del turismo e alla mostra dei carri in miniatura opere di giovani maestri della carta pesta e il futuro della manifestazione carnacialesca la sera lo scenario cambia con la torre di proiezione collocata al centro della piazza le immagini diffuse sulla basilica di San Pietro e Paolo il palazzo di città e l'edificio della banca barocco e carnevale si combinano alla perfezione e offrono suggestioni sorprendenti ai tanti visitatori dalle 19 va in scena lo spettacolo in piazza duomo non ci sono i grandi carri in carta pesta ma l'intuizione del presidente della fondazione Gaetano Kundari è vincente comunque è festa abbiamo le visite delle scuole che sicuramente con i sorrisi dei bambini riusciamo a soddisfare il piacere di fare un carnevale che è proprio a loro dedicata e quindi abbiamo cominciato questa avventura che quest'anno sarà lunga nel tempo e che comincia proprio nella settimana canonica del carnevale e finirà in estate con l'esposizione anche durante l'estate dei carri allegorico grotteschi nel mezzo delle due manifestazioni il corso dei carri sia quelli infiorati che i carri grandi carri di carta pesta quindi un carnevale che si diluisce un po' nel tempo ma che non perde quella compattezza e quella maestosità e quella funzione culturale che ormai ha assunto da diverso tempo molto impattanti le immagini che si trasmessi sui palazzi storici della città e quel carnevale storico che ci riporta indietro negli anni 30 sì è una piccola un piccolo amarcord che è dovuto a tutti coloro che hanno fornito su iniziativa della fondazione carnevale 10 reale le loro immagini conservate nei cassetti e che noi abbiamo rimasterizzato e portato in forma digitale e quindi abbiamo ritenuto che potesse essere piacevole rivederli per tutti coloro che dopo le 18 ogni sera vorranno fare una passeggiata e rivedere quelle immagini un po' sbiadite un po' sfocate che sono state recuperate e quindi vengono riportate a nuova luce dandogli quell'attualità che è giusto che esse abbiano ricordiamo che più di così non si può per le restrizioni ancora in corso naturalmente noi abbiamo ancora da da gestire questi questa coda della pandemia e deve essere gestita nel miglior modo possibile senza che la festa di carnevale si possa trasformare in un pretesto di focolaio del covid che ancora purtroppo è tra di noi nuovamente in studio come di consueto dopo la pubblicità diamo uno sguardo alle previsioni del tempo sulla Sicilia per la giornata di domani sabato 26 febbraio cielo sulla Sicilia da sereno a parzialmente nuvoloso venti assenti mari calmi le temperature nel lieve aumento nei valori massimi oscilleranno da un grado a n a 19 a Siracusa nell'Interland 8 gradi la minima 18 la massima non ci sono altre notizie termina qui questa edizione del nostro telegiornale che come sempre potrete riseguire su internet sul nostro sito all'indirizzo reitv.it ma anche sulla nostra pagina facebook e sul nostro canale youtube un nuovo appuntamento in diretta con la nostra informazione questa sera alle 19.45 grazie per averci seguito a tutti voi buon pomeriggio e buon proseguimento grazie per averci seguito